Troppo sbilanciato in favore delle ragioni degli esercenti e dei titolari di discoteche e stabilimenti balneari a scapito della tutela ambientale, dell'ordine pubblico e del diritto dei residenti a riposo. Insomma, un tentativo di dare un colpo al cerchio e uno alla botte per mantenere il difficile equilibrio tra ragioni dell'economia turistica e convivenza civile. Un tentativo che però per il locale circolo di Sinistra Ecologia e Libertà non solo non è riuscito a Gallipoli. La nuova Ibiza a gestire con difficoltà un successo di presenza ormai consolidato e quindi non più da affrontare con provvedimenti emergenziali, ma che si è tradotto in provvedimenti illegittimi. Lo è in particolare per i vendoliani della città bella, l'ultima ordinanza emanata dal sindaco Francesco Enrico, la 221 del 4 agosto, a introdurre ed eroga i divieti imposti a locali e lili su tempi e modi dell'intrattenimento musicale nei giorni caldi della stagione turistica. I motivi li spiegano in queste dieci pagine di esposto inviato al Ministero dell'Interno, alle procure ordinarie antimafia, prefetto, regione, ARPA e ASL. Innanzitutto, semplicemente perché dilatare occasioni orari, come è avvenuto peraltro sottolineano con l'Avalo della Prefettura, non è il modo migliore per contenere vandalismo e altri problemi di ordine pubblico, oltre a dilatare anziché limitare gli effetti dell'inquinamento acustico. Poi, perché non terrebbe minimamente conto proprio della normativa nazionale e regionale a cui fa esplicito riferimento in premessa, e non farebbe invece alcun riferimento alle norme di tutela ambientale vigenti nelle zone in cui sorgono molti dei locali beneficiati dalle deroghe. Per SEL ce n'è abbastanza per chiedere di valutare se nel confezionare l'ordinanza si siano compiuti atti o ci siano omissioni penalmente rilevanti.